Per la presidenza della Regione Puglia nel centro-sinistra si profila un'altra sfida a Emiliano Stefano, esattamente come nel 2015, la prima battaglia intorno al PSR con un veloce quanto polemico scambio di battute tra i due rappresentanti del PD. Oggi Emiliano, intervenendo ad un convegno sull'agricoltura, risponde a testa bassa all'ex assessore all'agricoltura che nei giorni scorsi lo aveva criticato proprio sulla questione del piano di sviluppo rurale. Questo PSR non è il PSR di Emiliano, questo era il PSR di Dario Stefano, un PSR che abbiamo dovuto correggere all'Unione Europea rispondendo a 650 osservazioni, è stato l'ultimo PSR approvato in Italia e quindi è arrivato con un anno di ritardo proprio per le deficienze del piano, dopodiché questo piano era tarato sul consenso, si è invitato Mezzomondo a costruire attorno al PSR domande quanto più numerose possibili, anche questo probabilmente nel periodo delle primarie, non so se ve lo ricordate, e questo ovviamente ha provocato un'aspettativa enorme da parte delle aziende e in più si è introdotto questo argomento che andava tolto dal PSR, cioè che la valutazione delle domande dovesse essere fatta anche sulla aspettativa di reddito dell'investimento e qui abbiamo giocato a chi ha preso il pesce più grosso, perché nella sostanza tutti hanno sparato somme di redditività enormi, sproporzionate e in molti casi inveridiche, che hanno poi costretto le persone per bene a impugnare queste graduatorie e a farle verificare dai giudici e questo ovviamente ha provocato molti ritardi, questo non c'è dubbio. Ciò nonostante abbiamo fatto la spesa, l'abbiamo certificata. Adesso se qualcuno vuole utilizzare l'agricoltura per sfidare politicamente Michele Emiliano, lo può fare, ma deve essere e deve dire la verità, non può dire bugie. Emiliano poi invita Stefano a sfidarlo alle primarie. No, io voglio che Stefano si ricandidi alle primarie, voglio che si candidi possibilmente a gennaio, a febbraio, a marzo, che non mi ricattino durante l'ultimo anno di governo. Se ha voglia di candidarsi, se l'ala renziana ha un candidato, lo tiri fuori, non utilizzi l'agricoltura per rovinare la Puglia e battiamoci alle primarie e vediamo chi vince.